Certamente sì, ma abbiamo già iniziato questo percorso, lo proseguiremo a Sansepolcro il 4 e il 5 di ottobre alla nostra festa dove ci saranno proprio un insieme di eventi dove Italia De Valori con le sue proposte si confronterà con il Partito Democratico e con gli esponenti del Governo in maniera tale da dire queste sono le nostre proposte, vediamo anche le vostre, sono compatibili e se sì costruiamo insieme il futuro.